partiti in vantaggio con decisione The Best of Paloma che conquista lo steccato avendo all'esterno Sprito Fall dietro ai primi due anni buttati che cade e in coda rimane attardato Jay da manina in vantaggio prosegue The Best Paloma con ai fianchi Sprito Fall che ora sta passando gradatamente in vantaggio nei confronti dello stesso più arretrata Jay da manina mentre c'è stata la caduta di anni buttati siamo nel tratto conclusivo con Sprito Fall che sta allungando nei confronti di The Best of Paloma avvicinata all'esterno da anni buttati che o da Jay da manina che ora punta sul leader nel tratto finale c'è lotta tra Sprito Fall e Jay da manina che sul palo lo appariglia poi The Best of Paloma per il terzo posto andiamo a rivedere le immagini con Jay da manina che Luca Magnezzi che negli ultimi tempi di galoppo hanno raggiunto Sprito Fall e Samuele Diana che ha cercato di difendersi all'interno vediamo ora le immagini probabilmente potrebbe essere Jay da manina ma i due sono vicinissimi sul palo e quindi è meglio aspettare il risponso del giudice d'arrivo Grazie a tutti! Grazie a tutti!